Siamo nel periodo della mucca pazza. Una signora ha bisogno di carne e va in macelleria. Entra e si rivolge al macellaio. Senta, cortesemente vorrei un etto di tacchino. Allora il tacchino gridando alla signora, signora il tacchino è esaurito, mi dispiace. Allora la signora, incavolata, la mucca è pazza, il tacchino è esaurito, ma datevi una calmata, no! Allora la signora, incavolata, la mucca è pazza, il tacchino è esaurito, ma datevi una calmata, no!